Campo Marzo è giro di vite. Da palazzo le autorità cittadine annunciano le nuove misure per combattere degrado e spaccio. Sul campo le forze dell'ordine dalle 13 alle 24 erano concentrate proprio nel grande giardino porta di accesso alla città. Alle volanti della questura berica si sono aggiunti i rinforzi, una gazzella dei carabinieri e un'unità cinofila. Abbiamo fatto dei controlli in Campo Marzo sequestrando quasi un etto di sostanza stupefacente occultata in vari punti del parco. Abbiamo controllato poi un'ottantina di persone. Una sorta di censimento di chi è in regola e chi no, di chi ha diritto di restare, chi ha esaurito tutte le possibilità di rimanere e quindi destinato all'espulsione. Di queste persone cinque sono state poi accompagnate in questura essendo stranieri senza titolo di soggiorno per rimanere in Italia e adesso sono la loro posizione al vaglio dell'ufficio immigrazione che sta istruendo le pratiche di espulsione. Rafforzamento dei controlli, più uomini in servizio ma intanto a Campo Marzo si susseguono le situazioni che sono al limite. Si sfiorano le risse come ieri con un rumeno 23enne alterato da alcol e forse sostanze stupefacenti che si scaglia contro un nordafricano. Intervengono le forze dell'ordine, due agenti rimangono feriti. Il giovane nel bagagliaio dell'auto parcheggiata in Campo Marzo nasconde un'ammazza da baseball, forse è pronto ad usarla. Il 23enne con una lunga fedina penale è arrestato. Varie le accuse da resistenza a violenze e a lesioni aggravate a pubblico ufficiale. Processato per direttissima è stato condannato a sei mesi e venti giorni ma è già in libertà. Discussioni, parole che volono e subito si passa ai fatti e una bottiglia rotta ad hoc diventa un'arma pronta a squarciare pancia e tagliare braccia. Immigrati che nascondono droga come il nigeriano con regolare permesso di soggiorno rilasciato l'anno scorso, bloccato dalla polizia municipale alle 10 del mattino mentre cercava di nascondere 21 involucri di eroina. Campo Marzo ancora a terra di nessuno, non sarà certo un dispositivo anche in forza a riportare da solo l'ordine.